ciao a tutti sono Ernestina della Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo eccellenze dolomitiche continuiamo con la seconda puntata dedicata alle coline del Prosecco un grande patrimonio del territorio Veneto e a Giovanni Carraro promotore del cammino del Prosecco Colorado New Messico Iran ma noi abbiamo una particolarità rispetto a loro il rivestimento la vegetazione dove loro hanno soltanto sabbia terra roccia marne arenarie noi abbiamo anche il rivestimento che sono colline rivestite di grandi vigneti e qui nasce il Prosecco ma anche boschi e questa alternanza tra vigneto e bosco è stata imposta come chiusura non possiamo più costruire altri vigneti si chiama paesaggio mosaico è il secondo elemento voluto dall'UNESCO quindi ricordiamoci le colline a corda primo elemento il paesaggio a mosaico secondo elemento e il terzo elemento qual è? I ciglioni sono questi terrazzamenti fatti a mano dal 1600 non ci sono muri a secco neanche di cemento tutti dalla nuda terra e sono praticamente le rive chi conosce la zona di Vadobbiade ne sa che ci sono le rive sono penenze molto verticali dove c'è la viticoltura eroica dove il contadino fa molta fatica ad andare a fare la vendemmia e queste sono una caratteristica che è piaciuta tantissimo all'UNESCO ecco il terzo elemento insieme di questi tre elementi ha creato appunto il patrimonio dell'umanità io andrei ad approfondire anche un argomento interessantissimo perché ci sono 40 itinerari nuovi che vanno a conoscere questi territori ma c'è la vera novità il cammino delle colline del Prosecco ecco Giovanni certo parliamo di quello perché anche tu che ci stai sentendo ora sulla radio tu hai ideato sei stato uno dei datori di un progetto interessantissimo e vorrei sapere come è nata anche questa idea che ora ci spiegherai e come avete scelto il nome perché risuona un po' al cammino di Santiago di Compostela in Spagna raccontaci Giovanni che sono curiosa allora pensavamo di aver chiuso il lavoro con questi 40 itinerari e quindi portare i turisti a camminare e conoscere queste colline meravigliose poi all'inizio di quest'anno la regione Veneto insieme all'UNESCO mi hanno chiamato e mi hanno detto ma perché non uniamo una serie di questi 40 itinerari li agganciamo uno con l'altro e creiamo un unico cammino che prende log back queste colline a corda della core zone che vi ho spiegato prima io ho pensato una giornata non di più perché sai ho in mente tutti gli itinerari quindi me li sono studiati nel corso degli anni e alla fine della giornata è nato il cammino quasi in maniera sublime così è nato dal nulla ho chiamato la regione Veneto ho fatto il primo progetto di collegamento tra Vidor e Vittorio Veneto e questo è importante da sottolineare perché tanti dicono ma perché Vidor e non Valdobbiadene perché le colline poi vi faccio vedere un'immagine si sviluppano su un arco geologico che parte proprio dal Piave da Vidor e arriva fino a Vittorio Veneto quindi è stato ideato questo percorso un percorso vi faccio vedere adesso come si sviluppa eccolo qui ricordiamo l'invito ai nostri ascoltatori di visitare il video che condividiamo anche sulle reti sociali di Bellunessi nel mondo anche le mie personali potete cercarmi come Ernestina dalla Corteluccio e vediamo ora questa immagine di Giovanni dai continua Giovanni ecco qui vediamo con un segno rosso il cammino che è stato creato è stato ideato da me e parte da Vidor che è qui in basso a sinistra non so se si vede il mouse per arrivare su in cima a Vittorio Veneto che è qua a destra dove c'è il 4 1, 2, 3, 4 sono 4 giornate la prima sosta si fa col San Martino la seconda sosta si fa a Follina la terza sosta si fa a Tarto e si conclude poi a Vittorio Veneto vedete i dati tecnici 49,8 chilometri un buon camminatore abituato a fare i cammini i cammini tipo Cammino di Santiago 800 chilometri dice ma cosa sono 49 chilometri me li faccio in un giorno e mezzo no, attenzione dovete badare tantissimo all'altro tema che è quello dell'altimetria eccola qui 2265 metri di più di più è un codice per gli esperti di montagna significa la sommatoria delle quote di salita quindi io partendo da Vidor e arrivando a Vittorio Veneto sommo 2265 metri di dislivello ed è molto alto questo dislivello è quasi un ultra trail per chi è abituato a fare corsa in montagna è un buon allenamento ecco questo è un argomento molto importante da ricordare perché un camminatore che dice 50 chilometri bene lo facciamo e via si parte no, attenzione devi avere equipaggiamento da montagna le scarpe da trekking lo zaino l'acqua e magari anche ecco ti stavo per chiedere Giovanni avete sentieri forse sono tutti hanno lo stesso livello di diciamo di complessità di difficoltà o questa immagine o no è variabile lo farlo chiunque o si deve avere una certa si vuole un minimo di allenamento perché se c'è una persona che è appesantita che ha difficoltà di deambulazione non è consigliabile ma una persona forse salutare ma che non è abituata a questi sentieri di montagna pensa ad un turista avete questi sentieri più adatti diciamo a chi non è esperto ancora? fa delle sezioni magari più semplici ad esempio il primo settore da Vidor fino a Col San Martino fino a Col Bertaldo che è il primo tratto da circa 6 km più o meno quello si può fare tranquillamente è per tutti perché si va in mezzo ai vigneti c'è un sentierino molto dolce si fa visitare l'antico castello di Vidor che poi è diventato monumento ai caduti insomma c'è tanta anche storia di grande guerra qui perché c'era la linea di confine e idealmente poi lo vediamo ha una valenza storica legata alla grande guerra molto importante ancora non te lo dico perché dobbiamo andare passo per passo a scoprire ma c'è qualche sentiero ci puoi anticipare? c'è qualche sentiero forse dedicato al ricordo della grande guerra o che aveva diciamo un argomento o qualcosa che a vedere? allora nei 40 itinerari del tutto il territorio sì ce n'è uno a Moriago della battaglia che va a ripercorrere la linea proprio del fronte qui abbiamo delle zone legate alla grande guerra perché c'erano delle postazioni dell'esercizio frungarico molto frequentemente si trovano trincee si trovano gallerie si trovano muri dove posizionavano le mitragliatrici c'era addirittura un bunker piccolino dove partiva il Draken che il Draken era una mongolfiera degli austriaci che veniva portata in alto e facevano le foto dall'alto le foto chiamate anche ortofoto per capire i movimenti del loro nemico che siamo noi italiani alla fine quindi diciamo troviamo tanti temi legati alla grande guerra però la cosa più importante e allora te l'anticipo perché sarei arrivato dopo idealmente questo cammino oltre ad avere un valore religioso che poi vediamo un valore storico legato anche alla storia antica alla storia medievale ha un valore storico legato alla grande guerra perché ripercorre simbolicamente il viaggio fatto dai nostri soldati quando c'è stato lo sfondamento della linea del Piave verso la battaglia finale di Vittorio Veneto nel 1918 quindi quando c'è stata la fine della prima guerra mondiale quindi ha un'importanza elevatissima ci sono stati i caimani del Piave che hanno attraversato appunto nella zona di Moriago e Mosniego quell'area c'è stato il primo sfondamento erano chiamati anche Arditi c'è il monumento degli Arditi a Sernalia della Battaglia che ricorda tutto questo passaggio e quando poi loro hanno fatto il primo sfondamento poi si è unito al resto dell'esercito e tutti insieme sono confluiti nella pianura del quartier del Piave per portarsi pian piano verso Vittorio Veneto e lì hanno respinto il nemico ecco il nostro cammino si sposta non esattamente dove è passato il soldato perché sta in collina però fa esattamente la stessa rotta quindi la stessa distanza 50 km noi oggi li facciamo sorridendo e loro forse l'han fatto con qualche meno un po' meno sorridenti quindi ci farà brividire queste cose è un grande ricordo che ci lascia questo cammino legato alla Grande Guerra e poi ci sono altri valori c'è il valore paesaggistico l'abbiamo discusso prima quindi UNESCO, la geologia c'è il valore religioso e questo vi faccio vedere qualche immagine molto interessante anche questo che sia anche interessante abbinarlo con quello della Grande Guerra che ti dico da brividi quello che ci raccontavi anche inviamo una preghiera per tutti quelli che hanno passato quel cammino come detto tu quel percorso che forse mica stavano sorridendo quindi è anche importante ricordarlo Giovanni poi lo vediamo in un'immagine che ha in mani del Piave ecco qui vi faccio vedere il valore religioso questo cammino percorre un sacco di bordi un sacco di chiesette campestri questa è la chiesa di Colbertaldo guardate che immagine questi sono i cachi ti stavo per dire se erano i cachi anche qui in Argentina abbiamo questo sembra una cartolina di Natale bellissima immagine che ci hai portato ecco questo è un esempio di una chiesetta poi c'è anche questa chiesa di Santa Lucia patrona della vista e c'è sempre questo connubio tra la ruralità quegli aspetti rurali dei luoghi dove viviamo con la religiosità una religiosità molto semplice qui non dobbiamo pretendere di essere a San Pietro a Roma qui abbiamo una religiosità molto molto semplice una chiesetta fantastica è quella di San Vigilio che vediamo qui a Col San Martino l'ho presa quel giorno fatalità c'era anche un pittore che stava riprendendo questa chiesetta la stava disegnando e io gli ho chiesto posso farti una foto vedrai che questa foto andrà andrà nei libri dell'UNESCO e poi ci sono temi più importanti di religiosità come le abbazie abbiamo l'abbazia di Bidor che è il punto di partenza ma anche l'abbazia di Follina che è antichissima del 1300 fatta dai Benedettini e qui ci sono le colonne annodate le colonne annodate sono una particolarità veramente interessante poco presente in Italia forse un po' di più nel centro Europa non si sa ancora il perché questi maestri comaccini le abbiano fatte e restano ancora oggi a volte dal mistero e abbiamo le colonne annodate sia nell'abbazia di Follina che in quella di Bidor e poi abbiamo Collagù dove c'è un santuario ci sono due santi Santa Emilio e un'altra santa che adesso mi sfugge il nome e sono custoditi all'interno di questa chiesetta che è meravigliosa è un piccolo borgo antichissimo di origini ma è stato rimesso a posto nell'Ottocento da una nobile famiglia ai Bottari del Castello che ancora oggi sono proprietari di questo borgo e poi ci sono tanti capitelli vedete qui Ave Maria man mano che noi camminiamo vediamo sempre tanti capitelli che sono la cultura popolare contadina che negli anni ha creato un po' queste belle cose questi piccoli esempi di ricordo religioso e poi ci sono tante cose legate alla storia questo è un cippo di confine tra la regola di Colbertaldo e quella di Barbossa che all'epoca erano chiamate così C e B Colbertaldo e Barbossa poi sono diventate Vidor e Valdobbiadene vedete qui 1693 questa è una roccia di arenaria scolpita a mano e poi vedete queste queste colline spettacolari con questi vigneti vi ho detto prima che ci sono questi terrazzamenti chiamati ciglioni ed è una delle tre caratteristiche del territorio unesco lì vedete tre torri queste sono le torri di credato sono famosissime è diciamo il fortilizio medievale più importante delle colline del Prosecco sono ricordate anche dal sommo poeta da Dante nella Divina Commedia nel Purgatorio perché si ricorda a proposito di Gaia da Camino che era una poetessa e viene citata appunto da questo grande poeta vedete che c'è il castello e poi più distante la sua chiesetta che è collegata sempre a questa proprietà fu distrutta dagli Ungari poi divenne proprietà dei Collalto e poi anche della famiglia Vittoriese dei Da Camino e in epoca più recente è stata è passata di proprietà a privati ecco e poi ad esempio vediamo Borghetti Giovanni quelli prima si possono visitare o è un'area privata diciamo? questa è un'area privata ma probabilmente in futuro chissà il privato io lo conosco è una persona molto aperta alla alla cultura e ai paesaggi e alla bellezza del nostro territorio non si sa mai che un domani possa sicuramente dedicare delle visite guidate perché merita veramente di vedere queste bellezze della nostra territorio ecco qui è un altro bordo abbiamo Arfanta Arfanta con la sua chiesa all'interno c'è un'opera molto antica di un pittore Francesco da Milano e ce ne sono tantissimi insomma ecco qui stiamo per finire il cammino stiamo entrando a Serravalle di Vittorio Vento vedete le mura queste mura sono quel che resta della città fortificata di Serravalle appunto della famiglia di Dacabino che erano i proprietari per un certo periodo di quel castello che vi ho fatto vedere prima e anche qui si entra nella storia guardate che spettacolo qui siamo alla fine proprio quando le gambe sono stanche però il sorriso ritorna a vedere questa meraviglia del nostro territorio si entra a Vittorio Veneto dove c'è questo museo appunto del Cenedese che che è uno spettacolo veramente sembra Venezia quasi c'è molto di Venezia lì ci sono le bifore le trifore insomma c'è tutto questo argomento no veramente Giovanni ti ringrazio per queste immagini che ci hai portato perché veramente è come fare una passeggiata in quei cammini in questo cammino del cammino delle coline del Prosecco che veramente invitiamo i nostri ascoltatori a fare al più presto diciamo si possono già visitare e percorrere o è un progetto che ancora non è finito no non si può non è finito adesso è stata fatta la prima fase quella della progettazione da parte mia adesso è in Regione Veneto per approfondimenti tecnici legati ad esempio i privati che devono essere coinvolti poi c'è la parte della tabellazione quindi la creazione delle tabelle che verrà fatta nei prossimi mesi ci sarà un ponte che verrà creato per il passaggio di un fiume che oggi si passa tirandosi sui pantaloni scalzi è anche così avventuroso però ovviamente non tutti gradiscono questi aspetti così da trekking quindi verrà fatto un ponte e poi partiamo con un grande evento di inaugurazione di tutti i 40 sentieri del territorio del cammino dell'UNESCO e poi porteremo un sacco di gente io invito tutti i bellunesi e gli italiani nel mondo a venire quando avranno una possibilità per il lockdown ma anche quando avranno tempo di prendere un biglietto d'aereo con le aerolinea argentina non so come si chiama la compagnia ci sentono in tutto il mondo quindi non possiamo cederci su solo una ma speriamo c'è anche gli Stati Uniti il Canada io ho dei parenti in Canada a Toronto possono venire a vedere queste dall'Australia anche possono venire insomma da tutte le parti da tutte le parti del mondo per vedere questa bellezza vi faccio vedere una immagine molto bella delle colline per cui si vede anche il cammino eccolo qui qui si vede interamente le colline il cammino pensate lui corre lungo tutta questa cresta questa linea di cresta ed è uno spettacolo è veramente un viaggio nella natura un viaggio nella storia un viaggio nella storia geologica perché andiamo a vedere poi diverse porzioni della geologia si va da una serie di colline di 30 milioni di anni fa con le conchiglie marne e arenarie si va invece anche ai 7 milioni di anni più recenti tipo la collina di San Gallo dove abbiamo il conglomerato e le argille quindi anche camminando si sente con i piedi differenti pressioni quindi la roccia dura della marna e dell'arenaria e magari il terreno più soffice del conglomerato oppure dell'argilla insomma è un viaggio veramente fantastico in tanti argomenti grazie anche per raccontarci tutto questo Giovanni veramente è un piacere sentirti anche vedere tutto il materiale che hai e che ci hai mostrato perché guardati è una cosa bella da vedere bella da scoprire bella da raccontare immagino questo queste coline diciamo anche questo riconoscimento UNESCO penso che è un punto di partenza diciamo voi avete altri progetti e sogni per il futuro anche con l'associazione colina patrimonio UNESCO beh questo è soltanto un punto di inizio perché cosa vuoi sono passati soltanto due anni dalla nomina UNESCO il turista sta cominciando ad arrivare pian piano hanno già avuto un buon incremento di presenze però l'obiettivo in dieci anni è di quintuplicare l'affluenza si arriverà a un milione di presenze secondo i dati di turisti e quindi ci saranno tantissimi eventi diciamo che quello che io ho fatto è una soltanto una parte di quello che sarà il mondo delle colline del Prosecco legate all'UNESCO perché non c'è solo il camminare perché finita la camminata dobbiamo andare a mangiare lo spiedo bere un buon bicchiere di voi avete il Carmenère laggiù qui abbiamo anche il Carmenère ma c'è anche il Cabernet e quindi dobbiamo andare in un buon ristorante finito il ristorante dobbiamo andare a dormire quindi ci vuole l'alloggio ci sono questi bed and breakfast ci sono dei belli hotel anche cinque stelle se volete c'è una stella due stelle tre stelle e anche cinque stelle quindi c'è per tutti la possibilità di attingere a strutture ricettive musei la possibilità di vedere anche i laghi a Revine ci sono i laghi abbiamo la collina il lago a un'ora di strada abbiamo il mare quindi un turista può far tutto un'ora di strada può andare sulle Dolomiti a vedere Cortina a vedere Belluno a vedere le invitiamo anche speriamo di poter tornarsi veramente più presto Giovanni immagino che è il periodo ma tu come rappresentante anche della fondazione UNESCO e dell'associazione Coline del Prosecco non è stato facile questo periodo che un po' è ancora di crisi sanitaria voi come avete affrontato diciamo questa realtà ma diciamo non è cambiato tanto da quello che fanno tutti quindi il lockdown è esistito per tutti quindi al limite quando facevo delle ispezioni sulle colline per lavoro avevo la carta di autorizzazione per muovermi però per il resto è rimasto tutto inalterato e per quel che riguarda la ricettività turistica quella si ha avuto un contraccolpo perché ovviamente gli hotel i bed and breakfast i ristoranti sono stati chiusi per parecchio tempo le cantine hanno avuto difficoltà nelle esportazioni perché chi è abituato a esportare il Prosecco e il Cartizze in paesi oltreoceano come da voi o come negli Stati Uniti stamattina parlavo con un importante produttore di Prosecco della zona di Colbertaldo di Vidor hanno avuto grandi problemi per l'esportazione a San Francisco non potevano e loro hanno grandi clienti lì adesso si è aperta un po' la possibilità di ritornare a un lavoro più tranquillo ma si è presentato un altro problema quello dell'approvvigionamento dei materiali quindi manca le bottiglie mancano le capsule mancano i tappi questo problema del Covid ha creato un disastro dappertutto veramente quindi speriamo che in futuro ci porti delle belle cose il bacino aiuti un po' a cancellare questo brutto periodo e dobbiamo guardare in avanti e guardare cose positive perché diciamo la terra è lì che ci aspetta le colline ci aspettano ma noi dobbiamo affrontarle con serenità ecco questo sì ecco Giovanni è veramente un piacere dimmi in poche parole perché i turisti belunesi italiani veneti nel mondo che ci stanno sentendo dovrebbero scegliere le colline del Prosecco come una destinazione ma guarda Belluno ha tantissime cose da vedere io mi sento sempre con questa vena bellunese dentro quando vado in piazza dei Martiri a Belluno io mi diverto sto bene sto veramente bene lì abbiamo una conca meravigliosa il Monte Serva lo Schiara il Pizzocco e quindi il Nevegal siamo contornati dalle montagne quando poi si va a Cortina si va ad Auronzo si va ad Alleghe e nello Zoldano si vedono altre realtà si vedono queste grandi pareti di 3000 e oltre metri quindi c'è veramente uno spettacolo della natura perché scegliere di andare oltre il Fadalto e oltre la stretta di Quero ma semplicemente perché si vedono altre realtà perché la montagna è completamente diversa non ci sono le grandi pareti di arrampicata ma abbiamo comunque delle elevazioni e delle altimetrie di tutto rispetto quindi anche se uno vuole fare allenamento lo può fare perfettamente quando si va nelle Dolomiti a camminare si sa bene che una buona escursione è di 1000 metri di dislivello i 1000 metri li troviamo anche sulle colline quindi anche uno abituato a fare fatica vi assicuro che la fatica la fa anche sulle colline del Prosecco e poi perché venire nelle colline del Prosecco lo dice anche il nome per vedere un buon bicchiere di Pollicine di Prosecco ma anche di Cartizze che è questo Cru e il Cartizze è una selezione diciamo è una zona ristretta chiamiamola Cru sono 106 ettari di terreno dove abbiamo una presenza di un territorio fatto di marna di arenaria molto particolare che conferisce particolari profumi a questo vino ed è diventato famoso quindi quando voi andate al ristorante e vedete la lista dei vini chiedete sempre al vostro sommelier ma è Prosecco o Cartizze e c'è una bella differenza e poi il mangiare io sono anche un buon gustaio qui c'è lo spiedo nella zona di Valdobbiadene nella zona di Cision di Valmarino Follina c'è lo spiedo che è una tradizione molto antica ma io penso che poi i veneti sparsi nel mondo anche se ormai stanno dimenticando le tradizioni perché passa il tempo io credo che lo spiedo lo conoscano un po' tutti è arrivato anche qui ma già è un'abitudine diciamo in Argentina molto buono già viene la qualina in boccia figurati voi avete la passione anche delle carni io so che non ci sono mai stato in Argentina ma so che avete questa tradizione del cos'è che avete l'assado assado bravo Giovanni ti aspettiamo avrete aperto qui in Argentina alla fine del mondo ma anche in America penso perché qui vedrai tanto di italianità c'è anche una comunità veneta si cerca di mantenere sempre vivo questo legame anche con la famiglia belunese dell'Argentina che beh è sempre un piacere essere in contatto con tanti belunesi e discendenti che invitiamo anche e che noi raccontiamo le loro storie di immigrazione nella rubrica del programma Ernestina dalla fine del mondo storie di immigrazione perché è importante essere in contatto diffondere quelle storie perché si creano così tanti collegamenti tanti nuovi amicizie è bello sempre essere in contatto come noi viviamo ogni ora ho un parente nella zona del di Santa Fe credo che è un Carraro che si è trasferito tanti anni fa io non l'ho mai conosciuto lo conosce mio padre quindi anche se non so come si chiama esattamente so che è un Carraro io gli mando un grande saluto un grande abbraccio insieme a tutti gli altri un appello un appello a che si faccia presente si faccia vivo così possiamo anche e sarebbe bello fare anche poi una puntata con te e con il tuo parente lontano che ne dici? sicuramente ma voglio non è solo rivolto a lui ma è rivolto a tutti gli emigranti che io quando penso all'immigrazione a questo proposito c'è un percorso dell'UNESCO che è a fratta e col maggiore nella zona di Revine e Tarto e ci sono questi murales è la via dei murales e alcuni murales parlano di emigrazione perché quei paesi hanno avuto questo fenomeno dell'immigrazione in maniera molto forte qui abbiamo ad esempio Segusino che ha avuto tanta emigrazione abbiamo avuto col maggiore di Tarso che ha avuto tantissima emigrazione e quindi se c'è qualche ascoltatore che ci sta ascoltando appunto di Segusino di col maggiore di Tarso lo saluto con anche un po' di nostalgia perché pensare a questi uomini che sono partiti con le valigie di cartone senza sapere dove arrivare saltare scavalcare l'oceano ed arrivare in queste località e non avere il lavoro non conoscere nessuno c'è stato veramente coraggio spirito di sacrificio e sono stati veramente delle grandi persone con un grande forza di volontà io li invidio questi persone ma Giovanni sa che hai accolto benissimo anche un po' lo spirito e diciamo quella eredità che vogliamo trasmettere quando raccontiamo questa storia che possiamo imparare tanto di queste persone che hanno avuto un grande coraggio hanno cercato nuovi riconti in posti diversi in posti lontani anche come la fine del mondo ma veramente persone molto coraggiose molto brave che hanno saputo andare avanti per quello che cerchiamo sempre di raccontare queste storie Giovanni veramente è un piacere averti avuto oggi qui con noi grazie per il tuo tempo la tua disponibilità per la tua energia per tutto quello che ci hai raccontato con tanto amore con tanta passione beh io ti saluto speriamo risentirci nuovamente in una prossima intervista raccontando come stanno andando questi progetti che ne pensi? io per me è stata una intervista veramente bella perché in genere qui almeno siamo abituati a interviste di pochi secondi veloci qui è tutto veloce fast calma facciamo anche un po' la vita slow con la vita slow si tirano fuori un sacco di argomenti si può discutere molto meglio del tema di approfondimento io vi ringrazio tantissimo ringrazio te Ernestina che ti ricordo ti chiami come mia madre Ernestina si brava io ringrazio tutti gli ascoltatori di tutto il mondo di emigranti dell'Italia del Veneto che sono andati via ma so che hanno ancora una parte del cuore qui da noi e vi lascio con un motto che ho creato per il cammino dell'UNESCO il cammino è un viaggio la vita stessa è un viaggio dunque il cammino è la metafora della vostra vita vi saluto e un bacio a tutti ma che bella Giovanni grazie per condividere beh nuovamente è stato un piacere grazie per queste parole e anche io vi saluto a voi cari amici bellunessi nel mondo vi aspetto prossima settimana e vi saluto da qui dalla fine del mondo e parlando di moto come dice il moto dell'associazione bellunessi nel mondo vicine lontani mai soli ringrazio ringraziamo inazio della corte lucio per la musica e il montaggio e patrizia lucio alla regia grazie a tutti i nostri a tutti i nostri